Rai 3 si affida ancora una volta alla divulgazione scientifica per il prime time del sabato sera grazie ad un nuovo programma che partirà dal 16 marzo dal titolo Sapiens, un solo pianeta. Un programma quindi che vede il ritorno sulla terza rete di Mario Tozzi, il geologo specializzato in tematiche che riguardano la terra e tutti i problemi connessi. Io ritorno a casa, torno a Rai 3 in prima serata, il sabato sera, per un programma che parlerà di come la storia del territorio ha condizionato la storia degli uomini. Le popolazioni che hanno legato i loro destini a quello dei corsi d'acqua hanno dovuto imparare però subito qualche cosa sulle caratteristiche fisiche del fiume, altrimenti la convivenza sarebbe stata pericolosa. Perché certi posti sono così? Perché gli uomini di certi posti sono così? E non in un altro modo? Come mai si sono mossi in una certa maniera? Che storia hanno costruito a partire da come il territorio li ha condizionati? Dunque un programma proprio nelle mie corde. I fiumi, vene della terra e da sempre risorsa indispensabile per l'uomo e la sua civiltà. Sto ridiscendendo il tagliamento, è un corridoio di vita naturale fino alla foce. Un'altra caratteristica interessante sarà quella di cercare i posti intatti del nostro pianeta, quelli non toccati, che ci insegnano. Perché sono rimasti intatti? E invece quelli che sono stati corrotti, perché lo sono stati? Sono posti insoliti spesso, quindi qualcosa che normalmente non si vede, almeno questo è quello che continuiamo di fare. Un viaggio dall'Italia agli angoli più spettacolari del pianeta, per capire il rapporto complicato e sempre più conflittuale fra i sapiens e l'acqua. Mario Tozzi conduce Sapiens, un solo pianeta, da sabato 16 marzo alle 21.45, Rai 3.